Un'esplosione improvvisa e poi l'incendio, così una guardia giurata della ditta Marcoccia si è trovata a pochi metri di distanza dalla deflagrazione che ha distrutto totalmente una villetta in legno in zona La Valeria, Montalto Marina. Il vigilante, se durante i normali controlli sul territorio, ha sentito un boato e poi vedersi le fiamme alte diversi metri, sono stati avvisati immediatamente i vigili del fuoco e la protezione civile di Montalto che hanno impiegato due ore per spegnere l'incendio. In un primo momento si è pensato che all'interno dell'abitazione ci fosse qualcuno, ma dagli accertamenti dei carabinieri nessuno era in casa al momento dell'esplosione. I carabinieri e la persone civili hanno dovuto sfondare il cancello di entrata per riuscire a far passare i mezzi di soccorso. Sul luogo dell'incendio sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza tutta l'area interessata dall'incendio. A causare l'esplosione probabilmente è stata una bombola del gas, ma è tutto ancora da chiarire anche perché i carabinieri hanno trovato la rete di recensione della villetta di Velta. Le fiamme hanno quindi bruciato tutto, persino una barca all'interno del giardino, è stata completamente distrutta dal fuoco. Sul fatto sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri di Montalto per stabilire le cause dell'incendio.